Un nuovo appuntamento con Crona che commenti il rotocalco che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale della Toscana. Subito i titoli degli argomenti che andremo ad affrontare. Approvata in Consiglio regionale la proposta di legge in materia di accesso alla qualifica dirigenziale, economia, strategie e linee guida in Toscana per affrontare le conseguenze della guerra. Verso la nascita di una multiutility regionale. Dopo il lavoro di elaborazione svolto dalla prima commissione presieduta da Giacomo Bugliani, è tornata in aula ed è stata approvata la proposta di legge in materia di accesso alla qualifica dirigenziale. Sono contento che la legge che era stata elaborata dalla prima commissione presieduta da Giacomo Bugliani è venuta in Consiglio e è stata approvata sostanzialmente nelle stesse modalità con cui l'aveva approvata la commissione. Questa consente di poter attingere per i direttori a figure che hanno maturato i loro requisiti, ovvero di posizioni esercitate a un livello dirigenziale per almeno cinque anni, non solo nella regione comune, nella pubblica amministrazione, ma anche laddove si è svolto funzioni di questa natura a livello universitario, a livello di magistratura, di avvocatura generale dello Stato. Insomma una capacità di allargare, rendere più flessibile quello che è l'attingere naturalmente con i requisiti dei cinque anni con funzioni di dirigente o di equipollenti per poter rivestire ruoli all'interno dell'amministrazione regionale. Del resto era importante questa legge anche perché dà una maggiore prefigurazione di ruoli a quello che la macchina regionale ora ha bisogno con il PNR e con tutti quegli investimenti che ad esempio con le risorse europee, parlo dei fondi strutturali, non solo del PNR, sarà possibile. Noi entriamo in una stagione importantissima, in quella in cui veramente la Toscana come le altre regioni italiane possono godere di una mole di risorse per investimenti come mai era accaduto e quindi va fortificata la macchina regionale. Su questa proposta di legge che ha un contenuto fortemente tecnico perché siamo comunque andati a toccare alcune norme che riguardano prettamente il pubblico impiego e nella fattispecie l'accesso alla qualifica di dirigente come anche quella di dipendente a tempo determinato. In realtà però nel contenuto e nella sostanza sono state recepite delle indicazioni per noi fondamentali. Il testo è uscito o migliorato, è un testo che a livello di qualità legislativa sicuramente ha visto un lavoro proficuo da parte della prima commissione, un testo che ha visto oggi in aula ritornare su un punto che era estremamente critico e che era l'unico che era rimasto in sospeso e che riguardava l'assunzione a discrezione della giunta per quanto riguarda gli autisti a servizio. Al di là di questo il dato che dobbiamo segnalare è sicuramente che nel momento in cui andiamo ad intervenire con qualità nella normazione facciamo un servizio che sicuramente va a tutto vantaggio dei cittadini toscani e della nostra comunità. La qualità della normazione per noi è essenziale per avere norme veramente efficaci e non discriminatorie. Sostanzialmente noi diamo la possibilità come avviene in altre regioni e come per legge nazionale c'è una precisa, ci sono una serie di precise disposizioni nazionali, si dà la possibilità alla giunta di assumere in incarico dirigenziali personalità e figure che abbiano dei requisiti ben precisi previsti dentro la normativa nazionale, dalla ricerca alla docenza universitaria, ai procuratori e agli avvocati dello Stato fino alle cariche della magistratura. In questa legge poi abbiamo via via che è a invarianza di bilancio per quanto riguarda il bilancio regionale, come ben precisato nell'ultimo articolo, abbiamo anche riprecisato alcune questioni sui contratti collettivi nazionali di lavoro riguardo i dirigenti e anche dato la possibilità, entro limiti precisi, come posto bene nel binario che il legislativo ci ha messo davanti con delle percentuali precise di esterni rispetto agli interni, sia per quello sia per le figure relative agli staff della regione riguardo alle figure dei collaboratori come autista. Quindi abbiamo fatto un lavoro molto serio e oggi possiamo dire che anche il dibattito in consiglia, in aula, dopo quello in commissione è stato molto sereno proprio perché abbiamo condiviso un percorso. Fratelli d'Italia non ha partecipato al voto su questa proposta di legge perché noi la ritenevamo un mero adeguamento normativo che la regione toscana doveva fare era una legge nazionale. Poi come sempre accade quando la regione deve adeguarsi alla norma nazionale ci finiscono dentro di tutto di più, siamo finiti a parlare di autisti piuttosto che di dirigenti per le aziende partecipate alla regione quando in realtà bastava fare un adeguamento normativo, motivo per il quale l'adeguamento normativo era doveroso quindi non aveva senso votare in maniera contraria ma non abbiamo nemmeno avallato una legge che doveva essere di dieci parole è diventata di quattro parti. È stata approvata all'unanimità una mozione presentata da Elisa Tozzi, consigliere del gruppo misto Toscana Domani e da Anna Paris del Partito Democratico che mette al centro le strategie da applicare in Toscana per affrontare le conseguenze della guerra in ambito economico. Lo scopo della mozione era proprio quello di richiamare regione toscana in sinergia naturalmente con il Consiglio ha un ruolo attivo e quindi prima di tutto ha una maggiore informazione anche periodica nei nostri confronti come organo consigliare proprio di quello che è l'impatto di ciò che sta accadendo sul tessuto socio-economico della regione toscana. Quindi questo è sicuramente importante monitorare ciò che sta accadendo. Dall'altro noi chiediamo però che ci siano anche delle azioni forti di sostegno prima di tutto al settore delle filiere agroalimentari che naturalmente in questo periodo stanno soffrendo. Pensiamo tutti quanti alla vicenda degli allevatori e delle cuote latte. C'è una questione centrale che è l'autosufficienza energetica. Il rapporto IRPET parla chiaro. La regione toscana ha un 25% di autosufficienza energetica quindi anche sotto questo aspetto sia a livello nazionale ma anche regionale tanto si può fare. Penso alla geotermia ma penso anche alle misure sull'agrifotovoltaico che sicuramente possono favorire a livello anche del settore agricolo ma diciamo l'autosufficienza. Dall'altro lato la questione dei distretti industriali dell'energia quindi la partita delle comunità energetiche che questa regione deve giocare ancora magari con una proposta di legge ad hoc sulla quale stiamo anche lavorando. Dall'altro la questione occupazione, lavoro, impresa, sostegno al sistema sono elementi essenziali. Riuscire a lavorare sul fronte delle politiche attive e quindi a sfruttare anche tutto il programma delle garanzie occupabilità dei lavoratori crediamo che sia diciamo un tassello primario. Nonostante tutti questi importanti provvedimenti del governo chiediamo qualche cosa in più alla nostra giunta, alla nostra regione che non si possono ne condividere e gli interventi più importanti è di prendere atto del grande lavoro che fa IRPET Toscana e abbiamo sentito il seminario che è stato proposto, il convegno il 28 di aprile che ci propone una fotografia attuale della situazione. Quindi sulla base di questo continuo lavoro chiediamo alla giunta di, lo farà sempre però più che mai considerare anche perché là ci sono anche i numeri del numero delle aziende in crisi nei vari settori. Quindi veramente un lavoro molto valido, quindi cosa fare nello specifico per le realtà che sono a rischio e poi problemi di ampio respiro su cui chiediamo l'intervento o il problema di intervenire sull'efficientamento energetico in tutti i campi perché oramai lo sappiamo, questa guerra più che mai ci pone in prima linea il problema di muoverci sull'efficientamento energetico, sul problema dell'energia, non soltanto PNR, più che mai accelerare. Sul PNRR voglio fare una considerazione perché forse qualche collega della destra, di Fratelli d'Italia aveva proposto di integrare la mozione con una richiesta sul PNRR ma noi lì dobbiamo andare avanti non si può parlare di rinegoziazione, lo sappiamo è un discorso che poi già a livello governativo il nostro è stato richiesto ma se rinegoziamo ci blocchiamo. Noi abbiamo chiesto soltanto una cosa, di inserire due righe che trasformassero questo bellissimo l'ennesimo bellissimo libro dei sogni in qualcosa di attuale perché tutto questo è attuabile la difesa della filiera corta, dell'agroalimentare toscano, il raggiungimento dell'autonomia energetica tutto è raggiungibile se e solo se l'Italia insieme agli altri paesi europei perché il tema riguarda tutti riescono a ricontrattare il PNRR perché o nel PNRR si riesce a inserire anche per esempio il tema dell'autosufficienza energetica oppure questo resta un libro dei sogni. Peggio, uso le parole di una persona che non è a me affine politicamente che è il sindaco di Firenze con il quale notoriamente non vado d'accordo. Il sindaco Nardella ieri parlando della copertura dello stadio Franchi ha detto candidamente che se non si fa in modo di ricontrattare il PNRR i progetti finanziati con i fondi del PNRR rischiano di saltare tutti. Perché? Perché oggi le materie prime costano il 30% in più rispetto a due mesi fa. Quindi se la copertura, e dico questa per fare un esempio, se la copertura dell'Artemio Franchi costava 100.000 euro, oggi costa 130.000 e le ditte che dovrebbero partecipare alle gare di appalto per realizzarlo con 100.000 euro, sapendo che poi ne dovranno spendere 130.000, non partecipano, le gare vanno deserte, le opere non si realizzano, i posti di lavoro non si creano. Noi chiedevamo di inserire questo. La mozione così come è stata presentata in rivista appare essere una mozione un po' contenitore, ecco cerca di attraversare un po' tutti gli argomenti che possono essere toccati, investiti dall'attuale conflitto in corso. Abbiamo alcune perplessità riguardo alcune argomentazioni che sono state sollevate riguardo l'impatto economico che in realtà in questo momento viene ben misurato da IRPET. Dobbiamo fare molta attenzione alle speculazioni sicuramente, specialmente nel campo dell'energia e delle materie prime e bisogna cercare di capire come recuperare la nostra indipendenza per i prodotti, per i servizi, per le materie, compresa l'energia che ci servono di più, nell'ottica non soltanto di questo attuale conflitto ma anche nell'ottica della maggiore prossimità dell'approvvigionamento delle risorse che è uno dei pilastri che è previsto anche dall'Unione Europea per il prossimo settennato. Significa andare nell'ottica della transizione ecologica, della maggiore resilienza ma soprattutto da parte dell'indipendenza. Quindi necessario fare delle valutazioni ma che siano ben misurabili per far sì che non ci siano degli allarmismi immotivati e quindi conseguenti magari rialzi di prezzo che sarebbero mere speculazioni. È stata respinta la richiesta delle opposizioni di discutere nel corso dell'ultima seduta del Consiglio regionale della nascita della nuova multiutility regionale, un progetto che prevede per il momento per 66 comuni toscani la gestione coordinata di servizi quali rifiuti, risorse elettriche e idriche. Per la proposta di inserire all'ordine del giorno il tema, presentata da tre gruppi consigliari, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, non è stata raggiunta la maggioranza necessaria dei tre quarti dei consiglieri presenti. Noi abbiamo assistito ieri alla presentazione dell'anvio di un percorso che nella loro autonomia alcuni comuni hanno inteso promuovere con una conferenza stampa che è stata ospitata nel palazzo della presidenza della regione. Questa mattina, sfociando un po' nella fanta politica e riconducendo da parte di alcune forze politiche questa ipotesi e questo percorso a chissà quale strategia politica, c'era stato il tentativo di discuterne subito in Consiglio regionale. Noi abbiamo ritenuto di respingere questa richiesta, non tanto perché non vogliamo che il Consiglio regionale sia investito, si occupi e assuma le proprie posizioni anche nei confronti di questa eventuale soluzione che rappresenta una realizzazione importante e significativa nel panorama economico dell'energia e dei servizi della Toscana. Ma una discussione di questo tipo va fatta con i presupposti per poterla fare. Quindi abbiamo chiesto che ci sia prima un passaggio in Commissione, che si conosca nel dettaglio e nel merito alla proposta e si metta quindi il Consiglio regionale di avere contezza di quello che si discute, di quelle che sono le proprie competenze e degli atti e degli indirizzi che vorrà dare. Ma è veramente una situazione singolare, a distanza di mesi come un fiume carsico, Gianni è tornato fuori ieri mettendo il cappello sulla presentazione di un progetto che legittimamente le aziende stanno perseguendo di concentrazione industriale a fronte dell'evoluzione del mercato dei servizi pubblici in Italia che ha visto nascere negli anni scorsi veri e propri colossi mentre in Toscana è rimasta una gestione frammentaria dei servizi. E quindi abbiamo chiesto che anche il Consiglio regionale che ha competenza rispetto all'organizzazione complessiva del sistema dei servizi pubblici, pensiamo al sistema di smaltimento dei rifiuti ma pensiamo anche alla riorganizzazione del settore idrico, affrontasse questa discussione prima che tutti i giochi siano compiuti perché a noi interessa sostanzialmente non tanto i giochi di potere fra le aziende quanto diminuire i costi delle tariffe per le imprese e per i cittadini e realizzare un vero progetto industriale. Per questo, l'abbiamo chiesto stamani, torneremo a chiederlo perché è giusto che i rappresentanti dei cittadini toscani discutano e contribuiscano a definire il miglior assetto possibile nell'interesse dei cittadini e delle imprese. Questa è la nostra ultima intervista, non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione, cronache e commenti torna. La prossima settimana. Grazie a tutti.